Vicepresidente Marino Zorzato, siamo a Due Carrare, nel Museo dell'Aria e più precisamente nel castello di San Pelagio per presentare il masterplan del centenario della Grande Guerra. Le zone di Padova e Rovigo rappresentano un po' le retrovie di questa Grande Guerra, però lei ha indicato che sono un'opportunità in un progetto così grande. Credo che queste nostre iniziative, girare il Veneto a Belluno oggi, a Padova questa mattina, a Verona domani, aver già fatto una visita a Venezia, essere andati in quel di Vicenza e via via. Girare il Veneto a presentare questa voglia di questo evento, il centenario della Grande Guerra, da riscoperti questi territori, ci fa scoprire cose che probabilmente non sono sempre nella nostra mente. Oggi siamo qua, in un museo straordinario, nel Museo dell'Aria, e scopri che d'annunzio partì da qua per invadere Viena di Volantini. E allora probabilmente non è che per tutti quelli che pensano alla Grande Guerra si pensa che ci sia un bellissimo museo a due carare in questa vita straordinaria. E via via. Cioè il Veneto è pieno di risorse straordinarie che vanno messe in rete e messe in sistema. Questo grande progetto di scoperta, da un lato, di quello che fu la Grande Guerra, e una voglia di lanciare valori per il futuro, rivolti ai giovani, alle donne, rivolti all'Europa, credo sia il senso di questo nostro faticoso lavoro, ma che darà frutti straordinari. Riscoperta dei territori, riscoperta dei musei, riscoperta dei luoghi bellissimi. Il turismo sarà ed è una grande risorsa economica, solo se la cultura e un grande paesaggio e territorio veneto ne saranno la cornice di ingredienti. Abbiamo sentito anche che questo è un luogo dove arrivano dei giovani stegisti, universitari. Questo elicottero che è alle nostre spalle è stato in parte restaurato anche da loro. È possibile lanciare un messaggio ai giovani proprio in occasione del centenario perché partecipino a questo progetto? Grande Guerra non è rievocazione, assolutamente. Grande Guerra è riscoperta di valori. La voglia che i giovani in particolare, io dico sempre giovani e donne, in qualche modo ci devono spronare, a partecipare alla creazione di un vento del futuro diverso, bello, in cui la bellezza, il paesaggio, il territorio, le belle cose, la nostra storia, il nostro futuro siano in qualche modo al centro. E i giovani, qua oggi scopriamo, che sono artefici di questo bellissimo luogo. Stegisti che studiano, che vanno in biblioteca in qualche modo a trovare vecchi documenti da riscoprire, stegisti che lavorano e qua c'è un insieme di ragazzi che vengono dalla scuola per il giardino, pensa te, per i cimeli storici e per la biblioteca. Cioè un insieme di interessi diversi in questo luogo meraviglioso.